Ma che cos'è? Sembrerebbero mosche. Quattro mosche. È vero. Si direbbero proprio quattro mosche. Che diavolo significa? E che significa? Significa che andiamo a parlare del terzo film di Dario Argento, 1971, Quattro mosche di velluto grigio. Quattro mosche di velluto grigio conclude un'ideale trilogia cosiddetta degli animali, ozonomica, nella quale appunto Argento inserisce un animale all'interno del titolo. Se per L'uccello delle prime di cristallo l'inserimento dell'animale era comunque motivato dal fatto che l'animale contribuiva alla risoluzione del caso, nel Gatto a nove gode il secondo film invece era più che altro una metafora, era diciamo un'idea in base alla quale si potevano seguire nove strade possibili per giungere al colpevole. In Quattro mosche di velluto grigio ancora meglio invece. Si ritorna alle origini e le quattro mosche del titolo sono proprio la risoluzione dell'enigma. Incredibile ma vero, è proprio così. Argento si libera con questo suo terzo film dal gioco del produttore e distributore della Titanus Goffredo Lombardo. Il film viene prodotto dalla Paramount e anche questo chiaramente un giallo e ci sono all'interno molti elementi anche autobiografici perché il protagonista del film è un musicista, tutti sappiamo della grande passione di argento per la musica, un musicista, un batterista per la precisione, Michael Brandon, che comincia a essere seguito da un misterioso personaggio e se lo ritrova sempre dietro. Un personaggio con cappello e occhiali da sole scuri. La sera, terminate le prove di registrazione di un disco che stanno incidendo, decide di affrontarlo, lo segue all'interno di un teatro abbandonato e ne nasce una breve colluttazione. Quest'uomo tira fuori un coltello a serramanico e nella lotta lui riesce a disarmarlo e accidentalmente lo colpisce all'addome. Ma in questo momento ci rendiamo conto che all'interno del teatro non ci sono solo i due personaggi, ma c'è anche una terza persona appollaiata su un loggione in alto, nascosta dietro una maschera di un pupazzo infantile, con una macchina fotografica, accende i fari che illuminano il palco e comincia a scattare delle foto. L'uomo precipita a terra nel fossato, dove solitamente viene posizionata l'orchestra del teatro, morto e quindi praticamente lui, il nostro personaggio, il nostro protagonista, cioè il coltello insanguinato tra le mani, l'uomo a terra esanime e questo tizio che dall'alto lo fotografa. Da questo momento inizia una vera e propria persecuzione a danni del nostro protagonista, che si vede recapitare a casa oggetti del morto, la carta d'identità, insomma una vera e propria persecuzione, addirittura una sera durante una festa con degli amici a casa, tra gli ospiti c'è anche il grandissimo Stefano Satta Flores, addirittura una di queste fotografie è infilata in mezzo agli LP della festa, quindi in mezzo ai suoi dischi. Quindi c'è questo misterioso personaggio, questo se vogliamo ricattatore, che però non chiede soldi e quindi si limita soltanto a perseguitare il nostro poveretto che chiaramente però non può neanche rivolgersi alla polizia, perché se si rivolgersi alla polizia verrebbe immediatamente accusato di omicidio e quindi andrebbe in galera. Quindi lui non può parlare con la polizia, si confida con la moglie, Mimsy Farmer, però più di tanto non può. E allora diciamo che decide di rivolgersi a un suo vecchio amico, una specie di vecchio saggio che è Bud Spencer, una sorta di barbone che vive in una baracca, si chiama Diomede, però viene chiamato Dio, e lui gli consiglia di rivolgersi a un detective privato, che è economico però intelligente. Il nostro segue il consiglio, si rivolge al detective privato, a Rosio, che è il grande Jean-Pierre Marielle, che è il reduce da una serie di insuccessi investigativi infinita, praticamente non è mai riuscito a risolvere un caso in circa 70-80 casi che ha seguito, però stavolta potrebbe essere una volta buona, chi lo sa. Infatti alla fine incredibilmente riuscirà a capire, ma verrà ucciso. Scopriremo oltretutto che l'uomo ucciso nel teatro in realtà non è mai morto, era tutta una finzione scenica inscenata appunto per poter poi perseguitare il nostro protagonista, il nostro batterista. Tra gli attori citiamo anche Oreste Leonello, Francine Rachet, insomma un cast eterogeneo molto interessante. Il film va avanti con anche l'omicidio della domestica, che forse aveva capito e tentava di ricattare il misterioso persecutore, e insomma si va avanti con una serie di omicidi che chiaramente l'assassino compie per coprire le sue tracce, come nella migliore tradizione giallistica, e giungiamo poi a un epilogo molto interessante. Se nel Gatto a nove code avevamo avuto già un elemento scientifico inserito da argento all'interno del film, che era quello della genetica, ovvero del corredo genetico dell'individuo, il fattore dei cromosomi alternati XY, stavolta invece introduce l'idea della optografia. L'optografia è un procedimento inventato da un fisiologo tedesco di fine ottocento, che si chiamava Kühne, il quale teorizzò che dopo la morte l'ultima immagine vista dalla persona potesse rimanere e restasse impressionata sulla retina per un tot di tempo, e quindi con una macchina fotografica particolare si potesse fotografare questa immagine e di conseguenza, in presenza di un delitto, si poteva addirittura vedere la vittima che prima di morire vedeva l'assassino in faccia e quindi di conseguenza l'assassino poteva essere smascherato. Ora, così come la tesi della genetica non viene presa in considerazione per isolare i criminali, allo stesso modo l'optografia forense non viene considerata attendibile nei casi di omicidio. Però è comunque una teoria interessante, scientifica, che Argento infila nel film e a un certo punto, dopo l'omicidio di Francine Rachet, un commissario che praticamente alla fine, come nei film di Argento con la maggior parte dei gialli, la polizia arrivesse sempre un uomo marginale, non riuscirà a scoprire l'assassino perché tentano di fare questo esperimento della retina, quindi di fotografare l'ultima immagine vista dalla vittima e che cosa vedono? Vedono quattro mosche che formano una sorta di arco, quattro mosche. Che cavolo significa? Cosa ha visto questa poveretta prima di morire? Quattro mosche, è mai possibile. Lo è, lo è, però lo dovete vedere. Vedendo il film lo scoprirete. Allora, nella trilogia gialla, l'uccello del pene di cristallo, il gatto nuovo codo e quattro mosche, di veluto grigio, questo terzo film lo colloco idealmente un gradino sotto i primi due, ma non perché sia brutto, assolutamente, anzi, un film bellissimo, pieno di bellissime riprese soggettive, scena del teatro ed antologie, i primi dieci minuti sono fantastici, e anche il finale, con l'assassino che da tradizione argentiana inaugurata dal gatto nuovo codo in poi deve fare una brutta fine perché deve essere punito per i delitti commessi. La scena finale è anche un capolavoro di ingegno cinematografico. Argento era uno che sperimentava, aveva molta inventiva sotto questo punto di vista. Pensate che la scena finale vede praticamente la macchina dell'assassino che finisce sotto un camion, lo tampona e quindi perché il camion è alto la macchina gli si infila sotto, ad altissima velocità, e la ripresa è fatta con una verissima cinepresa che girava a 18.000 fotogrammi al secondo. Pensate che il film che noi vediamo gira 24 fotogrammi al secondo. Immaginate una scena ripresa a 18.000 fotogrammi al secondo, chiaramente portata a 24, rallenta infinitamente. Ecco, quindi è un rallenty, però non è un rallenty artificiale fatto dopo, in post-produzione, è un rallenty che viene fatto al momento del girato, perché quando la pellica viene fatta poi girare 24 fotogrammi, anziché 18.000, l'immagine va lentissima. E quindi vediamo questa macchina che lentamente si infila sotto questo camion, si accartoccia, si rompe il parabrezza. Questa scena, tra l'altro, girata in un unico chuck, ovvero buona la prima, visto che si consumava tantissima pellicola, 18.000 fotogrammi al secondo per girare una scena di pochissimi secondi, contiene un piccolo difetto che è un'interlinea, una linea orizzontale nera che si vede durante lo scorrere dei fotogrammi, però è rimasta così e forse rende anche questo il film ancora più affascinante sotto questo punto di vista, perché sono comunque, come possiamo dire, difetti, limiti dell'epoca che forse oggi sarebbero risolti con la computer grafica, però rendono la cosa ancora più vera, come posso dire, più genuina. Ecco, quindi mi piace molto anche con questo lievissimo difetto che poi quasi nessuno se ne accorge. Alla fine lo sappiamo perché abbiamo letto, abbiamo sentito, abbiamo studiato, abbiamo sentito interviste, altrimenti noi di queste interlinea non avremmo mai saputo niente. Quindi voglio dire, alla fine ci sono quelli che sono un po' perfettini, però è il difetto. Vabbè, arrivederci. Tornando a noi, abbiamo anche qui le musiche di Ennio Morricone, come per i primi due film precedenti, una partitura più rock, visto che il protagonista è un batterista di un gruppo rock, di un complesso, come si usava a dire, negli anni settanta. Pensare che Dario Argento per questo film aveva pensato ai Deep Purple, per la colonna sonora, ma per una serie di finanziamenti e di agevolazioni fiscali, alla fine non fu possibile averli perché altrimenti c'era troppa ingerenza di cast straniero all'interno del film e quindi non sarebbe più stato considerato un film italiano, con conseguente riduzione dei finanziamenti e di quanto serviva appunto per realizzarlo. Quindi Ennio Morricone, che non è assolutamente un ripiego, anzi, sappiamo benissimo le capacità di Morricone, c'è il tema finale come un madrigale che accompagna appunto la scena finale dell'assassino che viene punito, che è qualcosa di struggente, romantico, fantastico. Anche in Quattro Mosche abbiamo un piccolo elemento paranormale che poi ritroveremo nel successivo Profondo Rosso, che è la scena della decapitazione, il sogno del protagonista, che immagina questa esecuzione in piazza, presumibilmente in Arabia Saudita, una piazza assolata, deserta, dove c'è questo condannato inginocchiato e il boia che con una scimitarra, prima gli infila uno stiletto nel collo per irrigidire il collo dietro la nuca, irrigidisce il collo e poi con un colpo di scimitarra gli fa saltare via la testa. Elemento paranormale perché alla fine è l'assassino. Bene, abbiamo spoilerato però non abbiamo detto chi è, almeno. La cosa divertente di questo film è che per tantissimi anni è stato il santo graal dei collezionisti, perché era introvabile. Passava regolarmente in televisione fino agli anni, primi anni 90, sulle reti film in Vesta, infatti io l'ho registrato nell'ultimo passaggio nel 1991. Da quel momento sparito dai palinsesti, mai uscito in VHS, mai uscito in DVD. Io mi ricordo che agli albori del collezionismo con le videocassette, quando si facevano le copie, i duplicati, ci si scambiava film rarissimi che altrimenti era impossibile vedere, non come oggi che si va di streaming o altre vie, ci si scambiava le liste dei film e il primo film che mi veniva sempre richiesto qual era? Quattro mosche di veluto grigio, perché io avevo la registrazione fatta da Rete 4, quindi non era una copia di una copia di una copia, ma era proprio la registrazione fatta, diciamo, originale, dal vero, diciamo, dal vivo, e quindi era quella che si vedeva anche meglio rispetto alle copie fatte di seconda, terza, quarta generazione. Tutto ciò ci porta al 2009, quando improvvisamente, prima un'etichetta tedesca tira fuori una vecchia copia in 35 mm e fa un riversamento in DVD pessimo, con colori bruttissimi, senza un po' di restauro, senza un po' di color correction, quindi un'edizione assolutamente da buttare nel cesso. E invece nel 2009, gli americani, con questa nuova etichetta nata proprio in quel periodo, la mia, fa uscire questo bellissimo DVD, Four Flies on Grey Velvet, con un audio italiano, la qualità video è ottima, però contiene delle piccole cadute di fotogrammi nei cambi rulli, nei cambi parte, si sono delle perdite di fotogrammi, ma si tratta di pochissimi secondi, però è un'edizione veramente ottima. Dopo qualche anno, anche in Italia, se non sbaglio, nel 2012, la Rai 01 ha riproposto lo stesso identico master in DVD, quindi non l'ho ricomprato perché avrei praticamente comprato un doppione, però se ancora oggi vi capita di adocchiare il DVD 01 di Quattro Mosche di Velluto Grigio, contiene questo master americano ed è veramente un ottimo master, devo dire, nonostante queste piccole cadute di fotogrammi, che sono comunque irrilevanti, sono impercettibili, non sono assolutamente, insomma, il film non è tagliato, ecco, non è tagliato. Invece poi abbiamo questo bellissimo Blu-ray, eh qua, siamo su altissimi livelli, Blu-ray germanico, tedesco della Koch Media, con questo titolo, che cavolo, dove abbiamo due dischetti, abbiamo il film in Blu-ray, un bel booklet, tutto chiaramente scritto in tedesco, poi c'è un bel DVD pieno zeppo di extra, questa è un'edizione veramente ottima, e da questa edizione poi è stato fatto anche il Blu-ray italiano, che quindi non ho preso, c'è Chigori perché ripropone lo stesso antico master tedesco, quindi sarebbe stato un doppione e non un upgrade. Sono uscite anche altre edizioni in Blu-ray, anche un'edizione inglese della Shameless, che però vi sconsiglio perché loro hanno pensato bene di alterare la scena finale con l'interlinea di cui vi ho parlato prima, cercando di togliere la riga con degli artifici, diciamo, digitali, e questo toglie genuinità il film, è una manipolazione per quanto mi riguarda, quindi per me è come se andassi vicino alla Gioconda e ci aggiungessi due pennellate qua, una pennellata lì, che mi rappresenta, cioè così il film è snaturato, quindi assolutamente da evitare l'edizione Shameless. So che recentemente è uscito anche il 4K in America per la Severin, non sono ancora passato al 4K, quindi per il momento lo lascio lì dov'è, poi quando sarà il momento vedremo, intanto per il momento so che costa anche uno sproposito, però è una grandissima edizione, quindi chi ha il 4K è bene che se lo accaparri, io invece preferisco aspettare ancora un pochino perché con il Blu-ray vado ancora più che bene. Ah, qua abbiamo anche il CD della colonna sonora di Morricone, come per tutti i film che meritano particolarmente, abbiamo anche il CD della colonna sonora come per gli altri film di Argento, della Trilogia degli Animali e anche per tanti altri film di cui stiamo parlando, se questo è il cinema del cuore, colonna sonora mi sembra il minimo, Blu-ray, di più che cosa si può pretendere. Vi dico soltanto che anche questo è un film assolutamente da vedere, da vedere, da vedere.